La donna responsabile dell'attentato che ha ucciso 6 persone nel centro di Istanbul e di nazionalità siriana l'ha fatto sapere la polizia turca. Mattarella sente Macron, serve collaborazione totale, grande importanza della relazione tra Italia e Francia. Il presidente ucraino è in visita nella città di Kherson, ripresa alle forze russe, lo riferisce una fonte della presidenza ucraina. Meteo in settimana arriva un treno di perturbazioni con pioggia e neve.